Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha rilasciato un'intervista molto interessante per la testata Polygon. Nella chiacchierata vengono infatti poste parecchie domande riguardanti il futuro di Nintendo e Switch, molte delle quali rappresentano i dubbi su cui tutti i fan e gli utenti Nintendo Switch si sono arrovellati nell'ultimo anno. Bowser spesso non ha dato risposte esaustive, girando attorno all'argomento senza prendere una posizione netta, ma nonostante questo sono molti dettagli interessanti che emergono da quest'articolo. E prima di commentarli insieme, mi raccomando, se questo genere di video vi piace, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Il 2020 è stato un anno assurdo per tutti quanti e anche Nintendo è stata costretta a riorganizzare i suoi sette aziendali per minimizzare l'impatto della pandemia. Per Bowser, Nintendo of America, non occupandosi direttamente dello sviluppo dei titoli, è stata influenzata relativamente dai disagi dettati dal periodo e avendo da subito monitorato la situazione già da inizio anno, è stata in grado di ridurre i danni al minimo. Soprattutto nel primo trimestre alcuni titoli hanno ricevuto un ritardo significativo, ma il vasto catalogo di IP Nintendo e l'ottima salute di cui ancora godono i titoli usciti negli scorsi anni hanno permesso a Nintendo America di distribuire nel modo più organico possibile tutte le uscite durante l'anno. L'intervistatore poi domanda quanto fosse previsto che Animal Crossing riscuotesse un successo del genere e Bowser, senza mezzi termini, risponde che la ricezione di New Horizons da parte di pubblico e critica è andata oltre ogni più rose aspettativa, grazie soprattutto all'incredibile partecipazione dei giocatori che hanno saputo costruire autonomamente delle community online. Per il presidente la forza del titolo risiede non solo nel supporto continuo dettato dagli aggiornamenti stagionali, ma anche soprattutto nel coinvolgimento degli utenti nel prendere parte nella creazione di contenuto personalizzato. Un fattore di interazione che dona potenzialità sconfinate al titolo che nonostante questo continuerà a essere supportato dall'azienda anche durante il 2021. Bowser ha anche riconosciuto l'ottimo riscontro da parte del pubblico del servizio Nintendo Switch Online. Seguendo i dati statistici a disposizione di Nintendo, i due principali motivi per cui gli utenti attivano l'abbonamento all'online sono la possibilità di giocare multiplayer e quello di usufruire dei cataloghi dei classici del NES e SNES, due fattori che sono stati presi in considerazione e che continueranno a essere espansi nel processo di miglioramento del servizio. Alla domanda se è possibile ipotizzare l'integrazione di un servizio come il Game Pass all'interno dell'ecosistema Switch, Bowser, pur non rispondendo direttamente, ha fatto intendere come le statistiche parlino chiaro. In media ogni utente Switch acquista 8 giochi per console, una percentuale altissima che allontana un modello di business come quello del Game Pass dalle sfere di interesse di Nintendo, sebbene l'azienda sia sempre alla ricerca di nuovi modi per aumentare il coinvolgimento della sua utenza. Purtroppo, su uno degli argomenti più caldi dell'anno, ovvero perché si sia scelto di optare per una pubblicazione a tempo per la 3D All Stars Collection, Bowser è rimasto molto sul vago, citando soltanto l'intento celebrativo dell'operazione. Inoltre ha tolto la speranza di qualsiasi possibile chiarimento sul destino di questi titoli dopo il 31 marzo, dichiarando di non poter parlare dei piani futuri di Nintendo a partire d'aprile. L'intervistatore poi formula un'altra domanda decisamente scomoda, ovvero la possibile esistenza di una Switch Pro che potrebbe rappresentare il motivo per cui Nintendo ha posticipato tutte le sue grandi IP più avanti, dal 2021 in poi. Dal punto di vista di Bowser la risposta è semplice. Arrivata ormai nel suo quarto anno di vita, Switch gode ancora di un'ottima salute. I giochi continuano a vendere come il pane, anche quelli usciti nel 2017, non c'è nessuna fretta di pubblicare nuove produzioni AAA nell'immediato futuro, soprattutto se contestualizzata all'interno di una line-up in grado di accontentare tutti i tipi di giocatori. Lo stesso discorso vale per un'ipotetica riedizione dell'hardware. Con Switch e Switch Lite, che continuano a primeggiare nelle classifiche di vendita delle console, per il presidente di Nintendo non c'è alcun motivo di investire risorse per andare a rimpiazzare dei modelli esistenti che godono ancora di ottima salute. Proprio come comunicato dal presidente Furukawa qualche mese fa, anche Bowser è d'accordo nell'affermare che Switch sia potenzialmente arrivata solo a metà del suo ciclo vitale. Risposta super insoddisfacente invece per quanto riguarda il problema del Joy-Con Drift. Più che prendersi la responsabilità dei difetti hardware, Bowser ha preferito continuare con una linea decisamente diplomatica e generica, affermando semplicemente che Nintendo è attenta alle esigenze dei consumatori e ascolta le richieste di tutti quanti, prestando particolare attenzione a quali sono i problemi che emergono durante i cicli di riparazione per migliorare i propri prodotti. Sì, insomma, tanto valeva non rispondere. Per quanto riguarda i giochi e in particolare Breath of the Wild 2, ovviamente il presidente di Nintendo non si è sbottonato più di tanto, affermando che quando ci sarà qualcosa da mostrare la grande N non si tirerà di certo indietro. È interessante però notare come nei piani di espansione di Nintendo per il 2021 rivesta un ruolo molto importante l'uscita dai confini del semplice videogioco, con operazioni come l'apertura del Nintendo World a Osaka il prossimo anno o anche attraverso le collaborazioni con brand di successo come Levis, Lego e Puma. Insomma, per Doug Bowser il futuro di Nintendo è radioso e ci aspetta un 2021 che vedrà la Switch ancora come protagonista indiscussa delle classifiche di vendita. Voi poracci cosa ne pensate di questa intervista? Avreste preferito altre risposte da parte di Doug Bowser? Come al solito vi aspetto nei commenti, se questo genere di video vi piace mi raccomando fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Polo Doug, Michele Bowser, ciao!